Come sempre accade, purtroppo, anche questo Natale non sarà sereno per tutti. Alle difficoltà quest'anno legate alla pandemia si aggiungono la tristezza ed il disagio di chi debba fare i conti con l'ordine perentorio di lasciare la propria abitazione, la propria casa, quella di sempre, quella che racchiude storie, ricordi, emozioni di una vita. Accade a Carosino, ai residenti di due palazzi situati in via Mazzini, di proprietà di Arca Ionica, agenzia regionale per la casa e l'abitare. Una storia che in realtà ha dato le prime avvisaglie lo scorso agosto, quando i residenti furono invitati ma solo verbalmente a cercare una nuova abitazione. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto la comprensibile sofferenza di chi oggi debba lasciare la propria casa e che chiedeva un valido perché. Non sappiamo dove alloggiare, con dei minori e con dei disabili. Ma soprattutto non sappiamo il perché. Dichiarano verbalmente che sono due palazzi in pericolo di crollo. Oggi a quel perché sono arrivate finalmente risposte che proprio Arca Ionica ha fornito, garantendo l'assunzione di determinati impegni nei confronti di queste famiglie. La situazione di criticità non permetteva il mantenimento in sito delle persone, delle famiglie, cosa che è stata confermata definitivamente l'altro ieri. Qual è la soluzione che ha proposto oggi agli intervenuti? Allora, nell'immediato sicuramente remettere in sicurezza le persone, quindi liberare nell'immediato quegli alloggi e diciamo allocare i nuclei familiari in altri appartamenti che verranno messi a disposizione e trovati anche dagli assegnatari, i cui oneri saranno tutti a carico di Arca Ionica. Quindi, diciamo, le famiglie sono state tranquillizzate ed assicurate. Al di là del disagio che purtroppo dovranno subire, ma è dovuto alla messa in sicurezza delle loro vite, il disagio verrà ripagato oggi con un alloggio sicuro, tra X tempo, immagino 24 mesi, con delle nuove palazzine tutte a norma.